partiamo con le domande come ti chiami? Ivan Alessandro soprannome Manda Sarto Quanti anni hai? Trenta, 23 professione, studente, club di appartenenza e che ruolo hai? Club schermo associati, tecnico di primo livello e atleta. Club schermo associati, tecnico della sezione di alba e atleta. Fioretto, spada o sciabola? Spada. Tutto e tre. Colpo preferito? Arresto al braccio. Presa di terza e filo, possibilmente in flash. Colpo che non ti viene mai? Flash. Battuta di prima fuetta alla schiena, ci provo ma non mi viene sempre. La cosa più bella del club schermo associati? Che è una grande famiglia nella quale mi sono subito trovato a mio agio. Concordo con Ivan e soprattutto la serenità del club e di tutti coloro che ne fanno parte. E quella più brutta? In quattro anni non ho ancora trovato cose brutte, se devo essere sincero. Personalmente l'assenza di un'armeria fissa. La prima cosa che fai al mattino? Per un bicchiere d'acqua. Mi sveglio. L'ultima cosa che fai la sera? Cercare di leggere almeno due pagine del libro che in questo momento sto leggendo. Controllo il telefono, le notifiche, così messaggio, se ci sono dei messaggi. Una persona che stimi? Paolo Pizzo. Max Heinzer. Una che non sopporti? Allora, la squadra di sciabolatori della Corea del Sud, perché mettono sempre in difficoltà all'Italia, fanno sempre dei super megafondi che nessuno riesce finora a replicare. Per me è sempre una squadra, ma è la squadra di Fioretto degli Stati Uniti, perché se la tirano troppo, diciamo. Tre cose che guardi in uno schermitore o schermitrice? Allora, eleganza nei movimenti sulla pedana, mi attira molto ovviamente la rapidità e mi piacciono molto quando fanno cose semplici, che spesso però da applicare sono le più difficili. Io guardo la tecnica e se la divisa è pulita. E mi hai innamorato di una o uno schermitrice o schermidore? Se sì, com'è andata? Sì, non gliel'ho nemmeno detto, perché sono in certi casi personaggi così distanti, è che non sono riuscito nemmeno ad arrivarci. No, a me non è successo. Chi è secondo te il più bravo spadaccino di tutti i tempi? Molto affascinato dalla figura di Paolo Pizzo, secondo me è uno dei top. Beh, di tutti i tempi per me è zorro. Hai mai pensato di cambiare sport? Se sì, per quale? No, perché mi trovo bene nella scherma. Io devo dire che ho provato tanti sport, ma alla fine la scherma è quella che, diciamo, in cui ho trovato il mio posto. E se il club scherma associati sparisse? Allora, è una cosa alla quale ho pensato già qualche volta, perché non ci voglio pensare troppo. Per me non sparirà, continuerà a esistere. In quale epoca e in quale luogo del passato avresti voluto vivere? Attorno all'inizio del 1800. Per me anni 70. Gomorra. 1984 di George Orwell. Sei religioso? Sì. Sì, diciamo di sì. Ultimo libro letto. La sconfitta dell'Occidente di Domenico Quirico e Laura Secci. Discorsi sulla Brexit. Mai ubriacato? Non mai, nemmeno in questo caso. Sì. Bestemmi? Eh no, cerco proprio di non farlo. No. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Continuo a fare il mio tragitto. Continuo ad andare avanti. La legge è uguale per tutti? Non credo, non credo lo sia. Dipende se hai un buon avvocato. Che animale vorresti essere? Uno della famiglia dei felini sicuramente. Una gallina col becco lungo praticamente. Di cosa hai paura? Quella di essere investito quando sono in strada e in bicicletta. Di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che mi profisso. E' favorevole alla guerra? No. No, in nessuna sua forma. Ok. Film preferito? Film preferito? Apocalypse Now Redux del 2000. Star Wars, la prima e la seconda trilogia. Piatto preferito? Potrà sembrare banale, però la pizza è uno dei miei preferiti in assoluto. La carbonara. Genere musicale? Elettronica e dico questo genere qua. Io ho rock. Di solito, compri le cianfrusaglie dei venditori ambulanti? No, mai, non l'ho mai fatto. Io sì, qualche volta l'ho fatto, però ho preso delle fregature, quindi non lo faccio più. Un piatto che ti disgusta? L'altro giorno ho visto una fotografia di una pizza con delle fette di kiwi tagliato sopra. Quello mi disgusta. A me fa schifo, essendo piemontese, il cervello fritto. Per cosa ti batteresti fino al rischio della tua vita? Sicuramente per il paese in cui vivo. Per i miei familiari. La violenza serve a risolvere i problemi? Essere violenti non è mai bellissimo, però per un'esperienza personale mi sono reso conto che utilizzando un minimo di violenza ho sistemato le cose. Dipende in quale contesto la si usa. Meglio grassi o magri? Beh, magri tutta la vita, mi viene da dire. Magri tutta la vita. Trovi la lampada di Aladino. Hai tre desideri. Quali sono? Allora, il primo è diventare maestro di scherma subito così, senza fare altri esami. Incontrare magari qualche mio beniamino del ciclismo, anche del passato. Avere una casa in costa azzurra, in un paese che io so. Soldi infiniti, così non ci sono problemi. Laurearmi. Avere desideri infiniti. Cosa ti infastidisce di più del mondo della scherma? Incontrare magari degli avversari in pedana molto irruenti. Il dover cambiare attrezzatura praticamente ogni due anni. Chi è il tuo regista preferito? Penso che Robert Zemeckis sia in cima in questo momento a una classifica. Steven Spielberg, ma anche George Lucas. Hai mai fatto a botte? Sì, una volta, non so come ho fatto a farcela, ma pur essendo magrissimo, ho vinto ed è andata bene così. Stop, basta. Non ho più fatto a botte con nessuno. No, ci sono andato vicino alle medie, ma no. Frase famosa preferita? Mi hanno regalato un sogno. Che la forza sia con te. Poseresti mai nudo per una rivista? No, assolutamente no. No. Hai mai odiato qualcuno? È impossibile andare d'accordo con tutti, sì. In certi casi qualcuno mi è stato sulle cosiddette, certo. Sì, sì, anch'io. Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco di dita, chi faresti scomparire? Allora, faccio due schiocchi, è scomparso Donald Trump e scomparso Matteo Salvini. Vai, ne faccio un altro, è scomparso Kim Jong-un e siamo a posto. E siamo a posto. Convivenza o matrimonio? Fidanzamento dove ognuno vive in casa propria e ci si vede ogni tanto. Convivenza e poi matrimonio. Caccia, sei contro o a favore? Io sono contrario. Contro. Credi alle pari opportunità tra i sessi? Certo, assolutamente sì. Vorrei che la pari opportunità non fosse solo annunciata. E tu, ti piaci? Dico, sì, mi sento bene, sono in salute. Sì, direi di sì, a parte la questione dei muscoli, sì. Dimmi un motivo per cui dovrei farmi allenare da te. Guarda, io sono molto paziente, molto tranquillo. Non pretendo risultati immediati subito. Che sono bello. A scherma, chi vince tra voi due? Vabbè, sicuramente Alessandro. Anche lui, ultimamente è un avversario che dà filo da torcere, quindi... Cosa ammiri di chi c'è dall'altra parte? Allora, di Alessandro, ammirato che durante il corso d'istruttore che abbiamo fatto, lui è arrivato lì con più preparazione e soprattutto pratica. Di Ivan, ammirato la determinazione e la voglia di rialzarsi sempre. E cosa invece ti dà fastidio? Guarda, caratterialmente ogni tanto è un pelino noioso, ma su 100 il 2%, va bene? 2%, 2, non 2-0, 2, solo 2. Sai, anche per me è così. Il carattere alla fine, a volte può non essere sempre perfetto. Cosa non faresti neanche per 10 milioni di euro? Beh, un video pornografico che poi viene divulgato via internet. Cioè, questa è proprio una cosa che non esiste al mondo, manco per 10 milioni di euro. Ivan, sei sicuro? Sono 10 milioni di euro. Come ti immagini fra 20 anni? Sempre giovanile, sportivo, con la battuta pronta. Non so neanche dove sarò tra due, quindi. Fai un saluto. Ciao a tutti, ciao a tutti quelli che guarderanno questa intervista doppia. Un abbraccione virtuale a tutti quanti. Ciao ragazzi, speriamo di rivederci il più presto possibile. Grazie mille a Ivan e Alessandro. Ci vediamo per una prossima puntata. Ciao a tutti.